Rimini e Riccione sono i comuni con i valori più elevati degli immobili. Nella Perla Verde ancora oggi si arriva a pagare nella zona mare centro fino a 8.500 euro al metro quadro per un appartamento nuovo mentre all'ombra dell'arco d'Augusto la zona di maggior pregio risulta marina centro con prezzi che arrivano fino a 4.200 euro contro i 3.600 del centro storico. E quanto emerge dal primo osservatorio immobiliare provinciale redatto dalla Federazione degli agenti immobiliari di Rimini? Un focus attento sul mercato delle abitazioni. Valori elevati si registrano anche a Misano, Porto Verde e a Cattolica mentre Bellarici e a Marina tra le città costiere la più economica. Nell'entroterra i prezzi delle nuove abitazioni restano sopra i 2.000 euro al metro quadro anche nelle zone centrali di Sant'Arcangelo e in alcuni casi a Coriano e a Morciano. La sfida a distanza tra valli la vince l'Alta Valmarecchia che risulta poi più economica della Valconca. Affitti cari in centro storico a Rimini ma anche nelle zone più pregiate di Riccione dove si arriva a pagare fino a 700 euro al mese per un bilocale. C'è poi un dato su cui riflettere. Dal 2008 ad oggi i valori delle abitazioni in provincia sono diminuiti del 15-20% con punte anche più alte. Colpa della crisi ma anche di prezzi che avevano raggiunto livelli quasi fuori mercato e ora sono rientrati nei parametri. Quel che è certo è che la crisi immobiliare avanza di pari passo con quella dell'edilizia dal 2013 al 2014. Nel Riminese le imprese di costruzione sono passate da 528 a 457 e i lavoratori scesi da 2.923 a 2.409. Nel 2008 hanno chiuso 4 aziende su 10 e ha perso il lavoro quasi il 50% degli addetti. Dalla timida ripresa del mercato immobiliare potrebbe arrivare un'inversione di rotta. Grazie a tutti.